Musica Tangenziale di Tirano in regione incontro decisivo con Coldiretti e Anas per definire gli indennizi ai proprietari dei terreni che saranno espropriati. 10 giorni per l'accordo, a settembre consegna del cantiere. Celebrato ieri alla sasella il rito di elevazione della chiesa Santuario Diocesano, si chiama la Porta della Misericordia. Il vescovo confermato a una devozione popolare che dura da secoli. Via Libera dall'Inpsa, il riconoscimento di una tantum di 2400 euro ai lavoratori stagionali, beneficiari disoccupati a causa degli effetti economici dell'emergenza sanitaria. Domande entro il 30 aprile. Autotorino investe nel capitale umano. Il gruppo valtellinese leader in Italia nel settore auto apre 80 posizioni per il potenziamento dell'organico. Personale innovazione è la chiave della competitività. Buonasera e ben trovati a tutti i telespettatori di Unica Sondro. In apertura del telegiornale questa sera la pagina sanitaria frenata di ricoveri nei reparti covid dell'ospedale di Sondalo. Da lunedì a oggi si sono registrati 37 ingressi di nuovi pazienti e 4 decessi, ma conforta il numero dei dimessi, una quarantina. Il totale dei degenti covid del Morelli è di 132. Quattro in meno di lunedì, una lieve diminuzione che interrompe la crescita costante in atto da un mese. Ma avverte a SST prematuro trarne una tendenza. Intanto continua a preoccupare la terapia intensiva che ospita 14 pazienti in gravi condizioni. L'auspicio è che il progredire della campagna vaccinale riduca il numero dei contagi. Nell'intero territorio di ATS della Montagna, in forma regione Lombardia, ieri 578 le dosi inoculate, di cui 363 over 80, 119 a personale scolastico, 96 ad under 80. Nel fine settimana, prosegue a SST, è prevista la somministrazione al personale della scuola che aveva aderito in un secondo momento e ai volontari della protezione civile, così da completare entrambe le categorie. Nel frattempo è iniziata, per concludersi il lunedì, la vaccinazione di pazienti estremamente fragili, segnalati dai servizi che le hanno in cura. Si tratta di dializzati, diabetici gravi e persone sottoposte a chemioterapia o terapie immunodepressive. Porta della Misericordia, un nome evocativo legato a un luogo in cui sorge, affacciata sulla valle e al valore storico-religioso che ha avuto nel corso dei secoli. Parliamo della Chiesa della Sassella, elevata a Santuario Diocesano. A celebrare il rito ieri sera, il Vescovo Oscar Cantoni. La Chiesa di Santa Maria della Sassella, consacrata 500 anni fa, diventa Santuario Diocesano. Si chiamerà Porta della Misericordia. A ufficiare il rito di elevazione, giovedì sera a Sondrio, Monsignor Oscar Cantoni, Vescovo della Diocesi di Como. Da questa Chiesa, oggi elevata a Santuario, Maria sia Porta della Misericordia, che irrighi come un fiume e risani l'intera terra di Valtellina e tutte le comunità della nostra Diocesi. A dare lettura del decreto canonico di erezione della Chiesa a Santuario Diocesano, firmato dal Vescovo il 19 marzo, l'arciprete di Sondrio, Don Cristian Bricola. In questo luogo sacro, dice il decreto nelle premesse, è documentato dal 932 un culto mariano ininterrotto. Nei secoli, generazioni di fedeli si sono consegnate con fiducia all'intercezione della Madonna della Sassella. Offro così alla Chiesa un terzo santuario diocesano, volto a richiamare la nostra attenzione, fin dal nome, sul dono della misericordia di Dio, di cui siamo chiamati a essere testimoni e annunciatori che deve guidare i nostri passi. Dopo la lettura del decreto, il Vescovo ha aperto la porta della Chiesa per la celebrazione all'interno. Questa sera, nell'elevare a santuario la Chiesa della Sassella, non facciamo altro che confermare un antico e già riconosciuto luogo di fede e di santità. Il santuario della Madonna della Sassella è da sempre ritenuto tale dagli umili devoti di Maria, che lo hanno identificato quale presidio prezioso per il loro cammino di fede. Il Vescovo sottolinea la grande devozione alla Madonna che ha caratterizzato la storia della Valtellina, testimoniata da tanti santuari mariani, ma è su un tema verità centrale del cristianesimo che Cantoni si sofferma. È la misericordia di Dio che caratterizza il messaggio speciale che la Chiesa di Como ha ricevuto lungo i secoli, fino ad oggi, come prezioso dono, che a nostra volta deve essere ritrasmesso alla Chiesa intera. Il richiamo alla misericordia, fiume purificatore che irriga e sana il cuore dei fedeli, unisce la Sassella al santuario di Gallivaggio e a quello di Maccio di Villaguardia. Maria, quindi, da questo santuario ci offre in abbondanza la misericordia di Dio per farci attraversare i sentieri alidi della vita, immersi come siamo nella sofferenza e nel dolore e ricevere una parola di speranza, di consolazione e di vita nuova. Nuovo passo importante in avanti, quello compiuto oggi dalla futura tangenziale di Tirano. A Milano la Regione ha incontrato Anas e Coldiretti Sondrio per definire gli indennizi da riconoscere ai frutticoltori del tiranese che verranno espropriati. Vediamo. Gli indennizi destinati ai proprietari e agli affittuari dei terreni che saranno interessati dalla tangenziale di Tirano. Questo è il delicato argomento affrontato oggi a Milano, in Regione, alla presenza di Anas e Coldiretti Sondrio, un tavolo ristretto nel quale è stato preso l'impegno di sottoscrivere la Convenzione entro dieci giorni. È stato un incontro franco, dialettico, ma risolutivo per la definizione degli indennizi legati agli espropri, spiega l'assessore regionale alla montagna Massimo Sertori. Si tratta di un'opera fondamentale per la viabilità valtrinese-valchia-vennasca, anche in ottica Olimpia di 2026. Nel corso della riunione è stato anche stabilito che le fasi propedeutiche all'inizio dei lavori conterranno il più possibile i disagi per la prossima raccolta delle mele. Il raccolto 2021 nei fruttetti che saranno oggetto di esproprio sarà quindi salvo. Saranno inibite, ha precisato l'assessore, solo quelle lavorazioni per pochi casi relativi ad appezzamenti di terreno nell'ambito dei quali si rendono necessarie risoluzioni di interferenze. In ogni caso, questi saranno localizzati e organizzati con il coinvolgimento da parte di ANAS e di proprietari e affittuari. Dopo una fitta serie di interlocuzioni avute nelle ultime settimane, ha concluso Sertori, finalmente si sta arrivando alla firma di un'intesa che trova un giusto equilibrio tra la necessità di costruire un'infrastruttura importante, come la tangenziale di Tirano, e i giusti indennizi ai proprietari e agli affittuari dei terreni. Oggi sono state anche ribadite le tempistiche, il bando di gara della tangenziale è partito lo scorso dicembre e in base al cronoprogramma entro la fine di settembre avverrà la consegna dei lavori all'azienda appaltatrice. L'Inps ha pubblicato il messaggio con il quale recepisce la disposizione del decreto sostegni riguardo l'erogazione di indennità in favore di alcune categorie di lavoratori attraverso la semplificazione dei requisiti di accesso all'indennità di disoccupazione in Aspi fino alla data del 31 dicembre 2021. L'indennità a una tantum di importo pari a 2.400 euro spetta agli stagionali e ai lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilamenti termali, agli intermittenti, agli autonomi occasionali, agli incaricati alle vendite a domicilio. Il lavoratore dello spettacolo, precisa l'Inps, per l'accesso alla relativa indennità omnicompressiva deve far valere almeno 30 giornate di contributi e un reddito non superiore a 75.000 euro. I soggetti già beneficiari delle precedenti misure di sostegno non devono presentare una nuova istanza. Gli altri dovranno invece inoltrare domanda all'Inps esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli enti di patronato nel sito internet dell'Inps. Anche in provincia di Sondro è in corso la raccolta firme per fare in modo che i vaccini siano un bene accessibile a tutti. Ascoltate l'appello degli operatori della sanità. Diritto sui vaccini, nessun profitto sulla pandemia. E' questo il nome dell'iniziativa promossa a livello europeo e sposata da cittadini e sanitari della provincia di Sondrio, ma anche organizzazioni e associazioni di categoria e onlus. In corso una raccolta firme per obbligare la Commissione europea a discutere la proposta che si pone tra obiettivi. L'accesso alla diagnostica, alle terapie e ai vaccini non deve essere ostacolato da interessi particolari. La ricerca spesso è finanziata con ingenti stanziamenti pubblici. Questo impone la massima vigilanza e trasparenza. I vaccini devono essere un bene comune mondiale a disposizione di tutti. Tra i primi firmatari in provincia di Sondrio, Vicky Cimanga, medico al lavoro nei reparti Covid-19 del Morelli di Sondalo. A livello della provincia di Sondrio, con un gruppo di amici e soprattutto di operatori sanitari, abbiamo coinvolto, abbiamo deciso di partecipare e di lanciare l'appello alla collettività, a tutti i cittadini. Quindi tutti possono firmare, le firme si raccolgono solo online. Attualmente abbiamo l'adesione di 55 operatori sanitari. 30 persone come cittadini esponenti appartenenti a associazioni, partiti, sindacali della provincia di Sondrio hanno dato la loro adesione. Si vuole praticamente costringere la Commissione europea a rispettare quella che è stata la promessa della Presidente dell'Unione della Commissione europea, quando aveva detto che il vaccino del coronavirus deve essere un bene comune. L'accesso a un bene comune deve essere facilitato e possibile per tutti, soprattutto per quelli che non possono produrne. Per contrastare la pandemia, l'unica arma a disposizione rimangono i vaccini, precisa Cimanga, che invita tutti a partecipare a questa sottoscrizione. Per quanto riguarda le firme raccolte, in Italia l'obiettivo è di 53.580 firme da raccogliere, perché è proporzionale alla popolazione. Ad oggi siamo a 36.631 firme raccolte. La campagna sta andando avanti. Vi invitiamo quindi a sottoscrivere a questa iniziativa e solo così insieme potremo uscire da questo brutto incubo che purtroppo sta durando un po' troppo. È il poeta italiano più conosciuto e più apprezzato al mondo. La Divina Commedia è un'opera monumentale, letta e recitata nelle scuole e nelle università di ben cinque continenti e la provincia di Sondrio con una serie di iniziative. Sta celebrando i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. In questi giorni i protagonisti, gli studenti. Entrare nel cuore della montagna, dentro la miniera di Lanzada, dove ogni giorno si estrae il talco e dentro una suggestiva sala scavata dai minatori ascoltare alcuni canti dell'Inferno di Dante e note astruggenti, così con un prologo d'eccezione. L'ufficio scolastico di Sondrio la scorsa estate ad agosto avrà reso omaggio al sommo poeta, un'esperienza indimenticabile per tutti i presenti. Nei mesi successivi tante iniziative organizzate sul territorio. La prossima vedrà il coinvolgimento diretto degli studenti, un concorso di idee lanciato in occasione della giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, il Dante Dì, istituita nel 2020 dalla Consiglio dei Ministri, 700 gli anni trascorsi dalla morte di Dante. Non possiamo fare grandi celebrazioni, stante la situazione ancora di pandemia, però voglio lanciarvi una piccola sfida. Voglio mettere alla prova la vostra creatività e vi chiedo questo. Vi chiedo se entro i prossimi sette giorni avete voglia di registrare un brevissimo filmato, lo potete fare tranquillamente con il telefonino, in cui rispondete a una semplice domanda. Che cosa Dante ha da dirmi? Che cosa Dante può dirmi? C'è un rapporto ancora vivo tra Dante che è vissuto nel 1300 e io che sono uno studente del 2021, ecco questo mi piacerebbe sapere. Potrete caricare i vostri video su un sito che vi verrà segnalato dai vostri dirigenti scolastici, li metteremo tutti assieme e li pubblicheremo sulla pagina dell'Ufficio Scolastico. Prosegue questo weekend a Santa Caterina Valfurva, la settimana di grande sci sulle nevi valtellinesi, tutto all'insegna dell'organizzazione di Oltre Cancro Primo Aiuto, guidata dal team manager Omar Galli. Dopo le gare di slalom disputate tra lunedì e mercoledì a Livigno, i campionati italiani assoluti si spostano sulla pista Deborah Compagnoni, dove domani vanno in scena le due discese libere e domenica i Super G. Oggi giornata di prove, come mostrano le immagini baciate da sole splendente condizioni ottimali del tracciato. Tra gli uomini miglior tempo per Dominic Paris, tra le donne la più veloce è stata Nadia De Lago per la Valfurva, che quest'inverno si è sempre fatta trovare pronta a ospitare gare importanti. Una bella prova di efficienza grazie alla sinergia tra la Federazione Sport Invernali, oltre CPA, il braccio operativo della ONLUS e la locale Società di Impianti. Il concorso vedrà impegnati i poeti di 26 nazioni. La città di Sondrio sarà il fulcro della manifestazione che rende omaggio alla figura di Giovanni Bertacchi. diverse le novità contenute nell'edizione 2021 del Premio Internazionale. Sono attese circa 2000 opere scritte da centinaia di autori. L'anno scorso 26 paesi partecipanti. Stiamo parlando del Premio Internazionale di Poesie e Letteratura intitolato a Giovanni Bertacchi, giunto all'ottava edizione. Il velo è stato tolto nella presentazione online tenuta dall'assessore alla cultura e istruzione dei comuni di Sondrio, Marcella Fratta, e dagli organizzatori, da Massimiliano Greco, presidente dell'associazione culturale Progetto Alfa. L'edizione 2021 ha preso avvio il 9 febbraio, giorno di nascita di Bertacchi. Diverse le novità. Per la prima volta sono stati coinvolti i comuni della provincia di Sondrio che potranno concedere il patrocinio ed esprimere un rappresentante all'interno della commissione scientifica. L'idea di fondo è infatti quella di riscoprire la figura, le opere dell'illustre poeta nato a Chiavenna, al quale giustamente in Val Teneva e Chiavenna sono state dedicate vie e piazze. Ha una forte valenza culturale perché la poesia e la letteratura sono degli ambiti che sicuramente hanno una valenza formativa molto forte, anche una forte valenza di coesione sociale perché partecipano a questo festival di poesia e letteratura. Tante persone al loro concorso partecipano a livello non solo nazionale ma anche internazionale. In questi giorni hanno spiegato gli organizzatori. Verrà scelto lo stato straniero che ospiterà la finale per la categoria della lingua straniere che, causa Covid, potrebbe svolgersi in streaming. La giuria del premio sarà coordinata da Marina Mattei, giacuratrice dei Musei Capitolini di Roma, assieme ad Alfonso Vincenzo Mauro, direttore artistico del Festival della Cultura di Vietre sul Mare. Prevista anche una giuria social costituita da alcuni giovani influencer. Novità assoluta del 2021 è il nascente festival letterario che si svolgerà a Sondrio, con il patrocino del Comune che si articolerà su più giornate e culminerà nella premiazione finale in agenda d'ottobre. Il bando del concorso è disponibile online sul sito www.premio-giovanni-bertacchi.org Col diretti Bissa con le Colombe, l'iniziativa dei panettoni solidali a beneficio della piccola opera di Traona. Domattina presso l'agrimercato coperto di piazzale Bertacchi, il tipico dolce pasquale sarà proposto alla clientela in cambio di un'offerta a favore dell'istituzione in aiuto di donne e minori in difficoltà. L'Associazione degli Agricoltori della nostra provincia in questi mesi ha dato un concreto sostegno a persone e famiglie in condizione di bisogno, donando quasi 1.800 kg di cibo. Anche nel territorio, dichiara la Presidente Silvia Marchesini, emergono nuove fasce di indigenti. E l'ultima notizia del nostro telegiornale. Io vi ringrazio di cuore per essere stati con noi e a tutti voi auguro buona serata.